50.000 pasti per i gatti delle colonie feline di Arezzo. Questa la sorpresa dentro all'uopo di Pasqua per i gatti randagi della città. Siamo felici di collaborare volontariamente a questa iniziativa che vede e alleggerisce, diciamo, vede la gioia di tante signore anziane che si prendono cura dei gatti abbandonati in città. E quindi per noi questo è un momento veramente di gioia appagante per vedere un aiuto concreto sia agli animali ma anche alle persone in difficoltà. Si tratta della quarta maxi fornitura di cibo per mici. Nel corso dei prossimi giorni le custodi delle colonie feline adeguatamente avvertite potranno ritirare il cibo acquistato dall'amministrazione comunale. Siamo veramente soddisfatti di questa cosa, di riuscire a mantenere la parola data. Prosegue così la collaborazione tra l'amministrazione comunale che ha anche creato un nucleo specifico composto da due agenti della municipale contro maltrattamenti ed abbandoni di animali ed EMPA, il gestore del canile comunale. Proprio qui, dallo scorso luglio, c'è anche una stanza di degenza dove vengono accuditi i gatti prima e dopo la sterilizzazione. Dopo la sterilizzazione vengono rimessi nel territorio completamente sani in modo da salvaguardare quindi anche l'ambiente. Collaborazione che prosegue anche con OIPA a seguito del rinnovo della convenzione che disciplina le attività che le guardie zoofile riconosciute svolgono per il comune. Monitoriamo tutte le colonie feline del comune, monitoriamo le loro necessità, monitoriamo lo stato di salute degli animali, lo stato di detenzione, lo stato di cura della colonia felina. Grazie. 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 Grazie.